Mi chiamo Gian Pietro Povolo, sono responsabile finanziario delle operation di Cielo e Terra, un'azienda vinicola nella provincia di Vicenza, nata nel 1908. Siamo stati i primi in Italia a introdurre la lean production. Siamo anche diventati l'anno scorso, nel 2020, una delle più grandi aziende B Corp nel settore vinicolo, se non addirittura più grande a livello mondiale. Abbiamo lavorato su un cambio di paradigma, da aziende che fanno utili, aziende che fanno utili ma sono utili. Vi interessa conoscere l'etapa del nostro percorso? Venite al Festival Soagra 27 e 28 maggio.